In questi giorni di vacanza, secondo le stime, un italiano su due si trova nei luoghi di villeggiatura, uno dei maggiori problemi sotto il profilo della sicurezza pubblica, si sa, sono i furti nelle abitazioni, lasciate appunto vuote dai proprietari che si trovano in vacanza. Una piaga che puntualmente durante il periodo estivo conosce numeri importanti. Non sempre il bottino, per fortuna, è ingente, ma spesso i danni alle abitazioni sono di valore ben più alto di quello che i ladri riescono a portare via. Tra gli strumenti di difesa c'è indubbiamente la videosorveglianza che può aiutare anche in fase di indagini. Queste immagini ci arrivano infatti dalle telecamere di videosorveglianza di un condominio nell'Arettino e hanno immortalato un soggetto che si avvicina chiaramente alle abitazioni per verificare la situazione e magari organizzare il prossimo colpo. I cittadini avrebbero segnalato anche un'auto con la quale i malviventi si muovono. Immagini e segnalazione formale sono già sul tavolo dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini.